Si sta impegnando veramente tantissimo che questa serata sia veramente da ricordare Ora, momento Marchetta Momento Marchetta perché questa band è una band che è stata già almeno due volte nella mia trasmissione Due volte ad Urban Nights e ogni volta è una sorpresa perché dobbiamo ammettere Ha cambiato formazione diverse volte nella sua storia Ora, è effettivamente per bene, come si dice, la prima volta che sento questa band in questa situazione Anche perché è la prima volta per noi, giusto? E quindi, senza alcun indugio, perché se no altrimenti veramente perdiamo tanto tempo Luca Cao, un applauso per favore Con... Daniela Rando Come di consueto, buon divertimento a tutti Ciao Ah, bravo, così si fa Come di consueto, buon divertimento a tutti Come di consueto, buon divertimento a tutti Grazie 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 a tutti